Il 21 giugno è una giornata stupenda perché inizia l'estate, ma per noi è meravigliosa perché è la giornata mondiale sulla SLA. Ci sono più di 400.000 persone nel mondo malate di questa terribile malattia ed è importantissimo che le associazioni lavorino affinché gli ammalati possano vivere con dignità il percorso di malattia perché possono così prendere le decisioni migliori per il loro presente e il loro futuro. Quest'anno AISLA e le associazioni che in tutto il mondo si occupano di SLA dedicano il Global Day ai sette diritti fondamentali delle persone con SLA. Il diritto alle cure è essere informati, a poter scegliere e partecipare, a non essere discriminati alla riservatezza e al supporto di coloro che li assistono. Mi raccomando, partecipiamo tutti al Global Day sulla SLA.